Tre punti per alimentare i play-off. Questo chiedeva Ferazzoli ai suoi ragazzi e questo chiedevano anche i tifosi dopo la sfortunata prova di Campobasso. E i tre punti sono puntualmente arrivati. Forse non sarà stata la migliore prestazione interna della stagione, ma pensiamo che sia inutile andare a cercare il pelo nell'uovo, soprattutto guardando anche gli altri risultati di questa 27esima giornata. Temperatura mite, ritmo abbastanza blando, sia da una parte che dall'altra. Rientra Ferrani nelle file bianco-verdi, con Filippini che si sposta esterno. Ritmo blando, dicevamo, e per un quarto d'ora non accade praticamente nulla. Poi al sedicesimo, su un piazzato battuto da De Silvestri, Tuncara incorna bene, ma Rinaldini risponde per le rime e vola a deviare. Altri tre minuti e l'occasione stavolta è per il Matese. Galesio avanza e tira, ma Brusca non è da meno del collega avversario. Ventiquattresimo, cross di Ferrante, palla che si perde sul fondo dalla parte opposta, vicinissima, al palo. Al ventinovesimo, l'Avezzano passa in vantaggio. Tuncara governa bene un pallone e lo offre a Forte che guarda il piazzamento del portiere e lo infila con un preciso rasoterra. Poi sono gli ospiti a mettere la testa fuori dal guscio con Ricciardi che ruba palla sulla tre quarti e conclude, obbligando Brusca in calcio d'angolo. E per chiudere la prima frazione vi proponiamo questo lancio lungo per Roberti che aggancia bene ma conclude con scarsa precisione. E poi la ripresa, tre minuti e c'è uno spunto di De Silvestri sulla destra, dribbling e tiro che viene deviato in calcio d'angolo. Poi Ferrante non riesce a trovare il tempo giusto per firmare il raddoppio. Tutto questo al quinto minuto. All'undicesimo, il numero 7 ospite, Passewe, è autore di una buona giocata ma alla fine alza troppo la mira. Ventiquattresimo, calcio piazzato per il Matese. Palla tesa verso l'incrocio dei pali ma anche stavolta Brusca dimostra di meritare la maglia da titolare. Ventisettesimo, palla gol per Langellotti che tira a colpo sicuro ma Brusca se la cava anche stavolta. E al trentasettesimo la Vezzano raddoppia. Verna in campo da poco imposta su Tuncara che stoppa la perfezione e osserva i movimenti in area avversaria. Palla in mezzo dove arriva ancora Verna che di destro non perdona. Poco dopo il Matese perde l'esica in aria cerca di trarre in inganno il direttore di gara chiedendo il calcio di rigore ma rimedia il secondo giallo e per la formazione ospite si spegne definitivamente la luce. Al trentasettesimo opportunità biancoverde con Roberti e Luciani che non trovano il barco giusto per il Tris. Poi il rosso diretto lo rimedia anche Danceschi ma ormai i giochi sono fatti. Anzi in pieno recupero Roberti riceve stoppa e tira ma Rinaldini gli nega anche stavolta la gioia del gol.